GONDBYE MOTHERFUCKER Con il nuovo pad Con lo scaf e il trigger Quindi useremo anche un po' la pistola Dato che con il trigger E' molto più facile usare la pistola Voglio l'ole Perché si Cazzo lo togliere con un accessorio Allora niente lasciamo la senza Adesso mangio i biscotti io Ragazzi ci vedremo in partita Eccoci ragazzi in partita Menon War come sempre Trano che non c'è Combine Dai 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 Senti passi Guarda mi accompagna Cosa vuole l'Xbox? Cubino la prende Come scappare? Ah lo scuf Devo impararlo meglio ad usare Perché faccio salti di merda Va che la prima volta che lo uso Non vediamo un video Ci può stare Non sto neanche giocando tanto A con l'OVDT In questione sto giocando solo al PC Praticamente da Euro Truck Simuletro Troppo bello ragazzi Se avete un PC Compratelo perché E' da magari un giocone Cioè per chi ama i simulatori Vabbè Per chi ama i simulatori E' davvero un Un gioco spettacolare Un gioco spettacolare Aspetta che lo sentite di qua Quello di prima Che cazzo è Coglione Dai così Dai così L'ho visto L'ho visto Ma lol Fail Ma domicchio Non era uscito Appena mi sporco io Cioè appena inizio a par Cioè dai Vabbè vabbè Mi estrogono pure gli UAV Guarda che mira di merda Che ho No ragazzi Io rivolgo io Mv2 Ho anche Black Ops 2 Vai a fare un culo Bastardo C'è lì Sento i passi Eccolo qua No Non che xbox di merda Kinect di merda Non lo sopporto Non lo sopporto Kinect Ancora Ma Non ci sembra male che non sono morto Minaccia risolta Mi sotto controllo Non ce l'ho visto Non so a terra Magli andarsene da qua Magli andarsene da qua Il nemico ha distrutto il vostro Tu avvi alleato in arrivo Scansi Organi non recuperabili Levati 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 dal cazzo Porco giudo Coglione No la macchina da guerra Non la uso Perché non la so usare Morirei Subito Merda Poi finiti i colpi Mamma mia Cazzo ho trovato da per terra Ma Galleggia perché Ovvio Pensavo ce ne fosse un altro In acqua Sono tutti di qua raga Perdiamo B Tu avvi alleato in arrivo A disposizione Non so raga Se usarla adesso Perché Dura un bel po' E ho partito ancora Richiedo inviuta A dire Viene concentrazione Sono morto Levati Fai andare a prendere questo Porco Non ci credo che mira Che mira Che mira Che mira Poi qua Gli riscono pure Le hater Che gioco di merda Uno Fa la serie alta E gli distruggono pure Le serie Che schifo Non lo usa adesso No Non è che ho tirato indietro Bastard Sempre sto figlio di puttana Che palle Rifatelo nel prossimo round Bevo un goccino d'acqua Eccoci raga Per il secondo round Eh sto usando la A adesso Comunque ragazzi Se volete passate dalla pagina In descrizione Del video dove ho scritto Ho fatto l'unboxing Qui sopra È risceso È vero C'ho Lo inculo Mi ha inculato a me Non lo inculo io Vieni giù Vieni giù Coglione Stupido Let's go Let's go Let's go Come ho fatto Mell'RB Cove sto andando E c'è uno Ammazzalo È morto il compagno Oh ma sto figlio di puttana Si mette Sempre a head Gliciare Ma sei un figlio di troia Allora È proprio la mamma troia Guarda che si mette A deglicciare Coglione Vieni che mi ha spaventato Il mio compagno Ce n'è uno Ho le spalle da me Ecco infatti È qua a destra Che cazzo è andato What Qua c'è uno 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 Va bene Merda più merda Uguale merda Quindi 3 ore a sparare 3 ore a sparare Sta merda di minican Ci metto Per quello Non la sopporto Guarda sto figlio di puttana Coglione Ah spara dopo 3 ore Guarda quello Si fa la trilla Quando quando serve un cazzo Tutta l'uavita Tutte lo distruggo Guarda Sti due Eh il peddol Si deve imparare ad usare Si è andato il bastardo E' dietro Ecco infatti Grande compagno Praticamente abbiamo fatto E' dietro E' dietro E' qua E' qua E' qua Oh sentite qua Guarda Mi fottono le kill Ah l'ho visto Beh da destra a sinistra Vabbè Torretta rinforzata ostile nell'area Guardian in posizione Eh? Ah la torretta Approvvigionamento in arrivo Vabbè Questa quinta Tanto ormai finita Questa quinta Questa quinta Questa quinta episodio Termina qua Senza Mothership Io non riesco a capire Perché in diretta Non riesco a chiamarli Non ci credo Siamo questo qua Approvvigionamento in arrivo Lo becco da qua Lo becco da qua Ok dai 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 Almeno una bella partita Da portare a casa Guarda che figlio di troia Qua fine amico in arrivo Tanto le scosse sono Cojone Qua mi sarò ancora cercando Vai le giriamole Le giriamole Le giriamole Le giriamole No non c'è nessuno Ma Porco giuto C'è un nemico qua Ecco infatti L'avevo visto Comunque 3510 Così così Questo secondo round 15 Praticamente Questo secondo round Ho fatto 15-7 Sì perché ero 23 15-7 Sì Ho fatto molto meglio Il Il primo E vabbè Questa partita termina qui Anche il video Spero vi sia piaciuto Come sempre vi ricordo Di lasciare un like Commentare Iscrivetevi al canale Da Fakkan è tutto Bella raga Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti